il coffee time di questa settimana si trasferisce a Castiglione Fiorentina ed esattamente nello studio veterinario del dottor Alberto Brandi perché insomma i motivi sono tanti le adozioni il calendario da dove vogliamo iniziare dove vuoi te è uguale inizierei da questo da questo calendario che insomma è stato realizzato se non sbaglio anche in collaborazione con Lorenzo Cherubini che ovviamente deve essere venduto per poi poter insomma ottenere un ricavato per i nostri amici animali eh lo state già vendendo è ancora possibile acquistarlo? Sì abbiamo tre calendari uno appunto è stato fatto dal canile di Vasto dove Lorenzo ha diciamo adottato un cane e eh appunto sono stati autografati firmati alcuni li abbiamo già venduti altri invece sono ancora da da vendere per chi li volesse come regalo di Natale eh però abbiamo anche i calendari del canile dell'Ossaia e abbiamo anche i calendari per i gatti dell'associazione Casa Mau per cui insomma la scelta è vasta la scelta è vasta ok noi li abbiamo tutti poi anche cioè quelli del canile di Vasto li trovate solo da noi altri si trovano anche in altri esercizi pubblici insomma noi ci siamo visti diverse volte prego sì no no dicevo che hm chiaramente tutti eh i soldi che vengono raccolti sono a scopo benefico per cui eh anche se siamo in una situazione un pochino più di 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 restrettezze eh diciamo i dieci euro per il calendario se qualcuno li può trovare vanno tutti ai nostri amici insomma insomma un regalo di Natale della Befana e le 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 vendite non è che sono a rilento ma insomma rispetto agli altri anni passati sono un po' più lente è anche vero che tutte le associazioni eh io infatti un pochino gliel'ho anche consigliato questa cosa nel senso che tutti fanno questo calendario però chiaramente chi ne compra uno non ne può comprare altri due insomma eh secondo me sarebbe bene magari anche diversificare le cose non lo so ecco oppure se se uno appunto anche senza calendario però se uno vuole fare un'offerta a queste associazioni eh sono sicuramente ben accette benissimo invece veniamo un po' anche appunto a quella che è la situazione all'interno del suo studio che noi spesso e volentieri abbiamo proprio toccato eh con Manu eh come sta andando ci sono ho visto alcuni post che lei ha pubblicato quindi insomma gattini ancora in adozione ecco qual è la situazione? No in questo periodo fortunatamente non ci sono gattini in adozione ne ho avuti gli ultimi un mese fa e da una parte è una fortuna da una parte un pochino questo mi rincresce perché veramente ogni giorno ci arrivano cinque sei telefonate di gente che vorrebbe adottare un gattino o un cucciolo perché è Natale cioè per fare un regalo e questo secondo me una fortunatamente io dico non c'è gatti nel senso che spesso questi regali poi dopo vanno a finire a volte anche male perché insomma non si regala un pelusce uno si regala un oggetto inanimato ma si regala un essere vivente che poi cresce poi dà problemi poi si può ammalare poi si può eh può avere dei costi ulteriori per cui insomma secondo me non è un regalo da fare nel senso che l'animale va adottato ma in tutti i periodi dell'anno e non perché c'è una ricorrenza eh io diffiderei molto su questo fatto anche perché nel momento in cui io dico perché è vero no siccome nei gattini soprattutto eh di razza eh le le stagionalità contano un pochino meno rispetto ai gatti randagi ci sono disponibili delle cucciolate di eh gatti di razza che però sono chiaramente a pagamento ecco quelli non li vuole nessuno eh quindi è un regalo che secondo me eh vorrebbe essere fatto ma per non spendere i soldi quindi secondo me non è un regalo che va bene però in questo momento eh non ci sono almeno da da me non ci sono gattini piccoli per cui ma penso da nessuna parte perché non è proprio la stagione eh dei 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 calori e dei parti magari a marzo aprile ce ne saranno quanti se ne vuole come tutti gli anni purtroppo. Bene eh quel quel sostegno che spesso lei ecco ha chiesto dal punto di vista proprio anche delle sterilizzazioni eh soprattutto per la parte pubblica perché come sappiamo il costo di un animale è anche per la parte sanitaria eh insomma quasi tutta ovviamente nella sfera eh privata quindi è tra virgolette quasi un lusso potersi oggi permettere eh un animale domestico e forse non è neanche troppo giusto che sia che sia così. Questi appelli che lei spesso ha lanciato sono stati poi raccolti o siamo ancora un po' a ai nastri di partenza? No allora diciamo che da un punto di vista del pubblico il pubblico fa quello che gli dice la legge per cui la legge dice che il pubblico si deve interessare alle colonie eh dei randaci e diciamo i comuni quindi si occupano di quello però io come sempre dico eh i gattini che si vengono vengono trovati nei cassonetti o in un fossato in un campo non sono abbandonati dalla gatta eh di colonia perché la mamma non abbandona mai i figli. Questi sono gatti delle famose gatte che eh vivono vicino alle case o anche in casa che partoriscono perché i proprietari perché nel momento in cui gli si dà da mangiare si diventa eh diciamo a tutti gli effetti proprietario e eh e poi quindi si sbolognano in qualche modo. Quindi diciamo che il pubblico fa quello che può anche in queste in queste condizioni economiche in cui siamo. È anche vero che io dico che una sterilizzazione di una gatta così come di un gatto maschio non è che costa un patrimonio. Si parla di io faccio le cifre del mio ambulatorio di centocinquanta euro tutto compreso che per essendo spese che che si fanno una volta nella vita non mi sembra che siano una esagerazione. Chirurgico a tutti gli effetti. In questo momento poi si fanno nella paroscopia per cui insomma eh anche le le cure post operatorie sono molto più leggere tranquille il gatto si riprende subito. Eh io anzi lancio un appello proprio un appello anche alle varie istituzioni tipo scudo di panno associazioni più che istituzioni associazioni tipo lo scudo di panno di Arezzo che sono disponibile in collaborazione chiaramente con loro con persone che loro sanno perché io non posso sapere né le condizioni economiche né eccetera di fare delle sterilizzazioni proprio a prezzo politico o anche gratuito. Una volta al mese si può anche fare una cosa così chiaramente dietro eh indicazione loro perché eh certo perché se no come eh come sempre in Italia se ne approfitta per cui io questo lo lo dico pubblicamente così eh non ci sono nemmeno più scuse nel senso che io tramite un'associazione sono disponibilissimo a trattare un prezzo politico o comunque anche a titolo gratuito se c'è delle persone magari eh anziane o pensionati eccetera che non possono e lo facciamo ecco io più di così non posso fare preferisco fare così che eh eh certo che diciamo mettermi in ambulatorio tanti gattini che poi dopo possono cioè danno poi per carità è anche una gioia quando uno li rivede eh magari qui in ambulatorio perché spesso appunto noi li rivediamo eccetera vederli cresciuti a volte ho messo anche dei post su Facebook proprio dove facevo postare i gattini adottati e poi cresciuti e c'è stata una miriade di foto molto molto carine e gratificanti anche per il nostro lavoro. Va bene l'ultimissimo appello siamo nel periodo delle feste Natale, Capodanno, insomma le feste in generale. Io dico non umanizziamo i nostri poveri amici animali con cappellini, addobbi ma soprattutto occhio ai botti perché sappiamo benissimo che gli danno molto molto fastidio e quindi insomma eh bisogna stare attenti però puntualmente non ci stiamo attenti. Qual è il consiglio che si può dare? Come si possono proteggere i nostri amici animali non solo dai cappellini di Natale ma soprattutto dai botti di fine anno? Allora è chiaramente l'ideale sarebbe tenerli in casa e eh rassicurarli con la nostra presenza eh qualora non si potesse qualora non si potesse esistono dei tranquillanti da dare al cane o al gatto diciamo soprattutto i cani si soffrono di questo di questa patologia è di dare al cane qualche ora prima magari del fatidico scoccare della mezzanotte per tenerli tranquilli però l'ideale è sempre tenerli in casa protetti con noi anche perché poi quando sono fuori tendono a volta a scappare a farsi male. Esatto. Eh insomma eh l'ideale proprio prevenire questa cosa purtroppo i botti anche se diminuiti e vietati ci saranno sempre. Esatto. È inutile nascondersi quindi. È vero è vero. No appunto l'ho detto. Tutti gli anni facciamo gli appelli ma poi i botti qui sono. Eh sì sì è inutile tanto dirlo però eh ti dico le armi che abbiamo noi possono essere appunto soltanto quello di stare vicino ai nostri animali sia tenendoli in casa sia se non è possibile creargli un 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 ambiente tale da proteggerli per eventuali eh traumi eh e soprattutto eh e soprattutto magari tranquillizzarli con eh delle sostanze o naturali o eh chimiche eh come come le esistono anche dei tranquillanti naturali che sono un pochino più blandi però possono svolgere la loro funzione lo stesso. No ringraziamo il dottor Alberto Brandi. Saranno feste di lavoro per lei o insomma o no o di pausa? No saranno feste di lavoro per cui cioè nel senso che noi siamo qua eh appunto in ambulatorio anche domani e per Natale le feste comandate siamo reperibili. Eh quindi insomma va bene sempre a disposizione. Sì certo chi fa questo mestiere insomma è è una vocazione. Grazie e tanti auguri a lei e ai nostri amici a quattro zampe. Poi a tutti arrivederci.